Sono in tutto 22 i positivi al coronavirus individuati a Sansepolcro attraverso lo screening di massa Territori Sicuri che si è svolto la scorsa settimana nella cittadina Bituurgenze per 5 giorni consecutivi. 5.755 i cittadini che si sono sottoposti ai tamponi. Lo screening era rivolto a tutta la popolazione, ma anche ai lavoratori, gli studenti provenienti dai comuni limitrofi. 6 infatti di loro sono risultati positivi, gli altri 16 sono tutti residenti a Sansepolcro. Abbiamo dato una risposta forte e tempestiva alla cittadinanza, ha detto il dottor Antonio Durso, direttore generale della ASL Toscana Sud-Est. Il nostro obiettivo era quello di individuare tempestivamente i positivi e soprattutto gli asintomatici, così da fermare la diffusione del virus. La nostra azienda sta vivendo un momento estremamente delicato vista la presenza delle varianti Covid inglese e brasiliana. Il sindaco Mauro Cornioli ha ringraziato l'azienda sanitaria per il grande lavoro fatto. I dati, ha detto che ci arrivano, sono di estrema importanza anche per le decisioni che andremo ad assumere nei prossimi giorni. Le scuole rimangono ancora chiuse.